Alessandro Degli Esposti torna in Puglia dopo la vittoria dei play-off del girone H di Serie D con Audace Cerignola e l'anno dopo ha cominciato a Bitonto ma ha terminato anzitempo per le vicissitudini giudiziarie della formazione del presidente Rossiello. Lo fa dopo una salvezza conquistata in Sardegna con la Torres presa all'ultimo posto e portata alla permanenza nell'ultima giornata. Sarà lui il direttore sportivo della Fidelisandria per la stagione 2021-2022 presentato assieme a Gigi Panarelli nella location suggestiva di Castel del Monte. Chiuso una parentesi positiva, secondo la parte di stagione sono contentissimo di essere qua. È un percorso che ho deciso di scegliere con grande entusiasmo perché ho deciso di sposare un progetto dove sposo sia un grande club di grandissima tradizione ma soprattutto delle persone di cui ho grandissima stima e grandissima fiducia personale per cui riesco ad unire sia l'aspetto calcistico che quello morale che è quello che poi alla fine ti permette di fare delle cose importanti. Ha detto il presidente che questo è un matrimonio che già era nell'area da parecchio tempo. Come mai questa stima? Penso che sia una stima reciproca che da qualche anno ci rincorriamo. Sono felice di essere venuto qua, di essere venuto in questo momento. Sono carico di motivazione. È una sfida importantissima per me. Mi auguro di fare il meglio possibile, di rappresentare questo club con grande entusiasmo, con grande professionalità e iniziamo da subito a lavorare per concentrarci su quello che sarà una stagione che per noi deve essere assolutamente importante.